Partita incredibile Capitano, davvero pochi potevano immaginare una lube così determinata e grintosa. Beh sicuramente abbiamo giocato meglio di altre partite, non è facile, loro sono una corazzata bellissima, giocano molto bene, anche in momenti di difficoltà non molano mai, quindi per noi è un challenge importante a livello mentale, a livello anche agonistico, quindi sono molto contento perché una partita così ci voleva. Poi ci siamo guadagnati l'opportunità di andare là, dove loro sono veramente forti, ma ci crediamo, almeno da domani in poi ci crederemo. Ti cambiano tutti i martelli, tutti gli schiacciatori, ma tu riesci a servire tutti lo stesso, mettono giù la palla? Beh ci siamo allenati anche abbastanza bene, i ragazzi, quelli che hanno giocato meno, sono stati bravi a tenere botta, perché comunque non è facile giocare quando da tanto tempo non bevi il campo, quindi il complimento va a loro, a Bottolo, a Garzia, oggi hanno fatto una partita incredibile, niente, a tutti quanti per tenere botte, l'importante è che davanti a questa gente che ci è venuta a vedere oggi abbiamo dimostrato che comunque ce la possiamo fare. Gara 5 come sarà? Beh è durissima, loro in casa sono molto forti, noi a Trento ancora non siamo riusciti manco a giocare la nostra migliore pallavolo, quindi sarà una bella sfida, quindi speriamo da domenica in poi essere pronti e giocarcela, poi, mal che va, siamo arrivati a gara 5.